L'immunizzazione al covid con il cosiddetto vaccino bivalente procede oggi senza intoppi anche a Pescara, nel centro di via Colle Renazzo, all'interno della struttura dell'ex Lidl. Dopo i disguidi informatici di ieri, questa mattina infatti tutto è tornato alla normalità, con il personale sanitario pronto ad accogliere quanti desidereranno ricevere il vaccino prescelto senza alcun obbligo di prenotazione nei giorni di apertura della struttura, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Dottoressa Olga Iaima, Rivio Henry, dirigente medico dell'ASL di Pescara, come sta andando dopo i disservizi di ieri per questo guasto informatico? Oggi come procede? Sì, oggi tutto è tornato alla normalità perché abbiamo parlato con gli utenti, li abbiamo chiesto di ritornare oggi, tutti quelli che ieri abbiamo visti, questa mattina li abbiamo già fatti. Le vaccinazioni, diciamo che alle 9 alle 10 abbiamo fatto una ventina di vaccinazioni. Parliamo sempre di un vaccino prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer, si chiama bivalente perché contiene sia il vaccino precedente che questo nuovo vaccino che copre queste varianti e per quello si chiama bivalente. Non abbiamo avuto nessuna reazione allergica e quindi andiamo tranquilli. Questa mattina le persone che abbiamo trovato molto decisamente hanno chiesto subito di fare il vaccino nuovo. Le persone sono molto decise e queste che ci siamo trovate questa mattina sono anche informati, quindi diciamo che non c'è stato nessun problema. Lodovica Mi, assistente sanitario, qui c'è la possibilità sia di vaccinarsi con, diciamo, tra virgolette il vecchio vaccino, amiamolo così per comunità, sia con il nuovo, questo bivalente. Cosa chiedono però le persone che vengono qui a vaccinarsi? Le vaccinazioni hanno ripreso, diciamo, via libera, quindi dopo il problema che abbiamo riscontrato ieri, finalmente abbiamo ricominciato le vaccinazioni. Chiaramente dobbiamo precisare che l'afflusso non è come l'anno scorso perché la maggior parte delle persone hanno avuto, diciamo, il Covid quest'estate. Quindi anche per questione di tempistica la somministrazione, quindi il booster, non lo possono fare, a meno che non siano trascorsi appunto 120 giorni. Il vaccino nuovo può essere effettuato solo ed esclusivamente come terza o quarta dose, quindi chi vuole fare, diciamo, il vaccino nuovo può farlo solo in questi casi. Deve effettuare chiaramente prima il ciclo primario con il vaccino che avevamo già a disposizione, cioè il Pfizer normale. Le persone che vengono, dicevate, sono molto informate e consapevoli di questa scelta. Esatto, la maggior parte delle persone che vengono qui dicono espressamente di voler fare la vaccinazione nuova. Alcuni invece sono resti, nel senso che vogliono rimanere sulla vaccinazione che hanno già fatto precedentemente. Infatti oggi qualcuno ha preferito effettuare la quarta dose o la terza dose con, diciamo, il vaccino che avevamo già, con il Pfizer che avevamo prima. Lei è in progetto di vaccinarsi, cosa sceglierà? Il vecchio o il nuovo? Il nuovo, visto che il vecchio già, diciamo, l'ho somministrato, mi attengo alle direttive e somministro il nuovo. Lei si è vaccinato da poco, che vaccino ha fatto? Ho scelto il nuovo perché comunque mi è stato consigliato, oltre qui al centro vaccinale, anche dal mio medico di base. Mi hanno detto che è più aggiornato, quindi da una copertura migliore. Quindi dalle altre due dosi moderne che avevo fatto prima, questa è la mia terza dose, ho scelto questo nuovo.